Grave incidente sulle piste del Cimone, ragazzo vignolese di 23 anni cade con lo snowboard e picchia la testa, trasportato in elissoccorso a Bologna e in prognosi riservata. Mal tempo, continua lo stato di allerta della protezione civile, a Modena nella notte scende la prima neve dell'inverno, poi la pioggia cancella tutto, precipitazioni più intense in montagna. Per i modenesi che amano le vacanze, il 2016 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Analizzando il calendario si scoprono tanti possibili ponti per allungare le feste e approfittarne con gite fuori porta. Il giovane è stato trasportato in elissoccorso al Maggiore di Bologna, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Pomeriggio drammatico per un 23enne di Vignola sulle piste del Cimone. Il ragazzo, a A alle sue iniziali, stava scendendo con lo snowboard quando verso le 14, dopo un salto, è caduto battendo violentemente la testa. Nonostante avesse il casco, l'urto è stato molto forte per l'ampiezza del salto e gli ha procurato un grave trauma cranico, tanto che dopo la caduta non ricordava nulla di quanto gli era accaduto, accusando anche nausea e altri problemi. Molto spaventati gli amici che erano con lui, di fronte a condizioni apparse subito gravi. Sul posto sono sopraggiunti immediatamente i carabinieri sciatori del servizio di vigilanza e il personale sanitario della FISPS, la Federazione Sicurezza Piste da Sci, che visto il quadro ha intubato il giovane per stabilizzarlo, chiamando l'elissoccorso per il trasporto all'ospedale Maggiore di Bologna, dove il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Non si esclude un intervento chirurgico e sarà decisiva l'evoluzione del quadro clinico nella notte. Poco dopo, verso le 16, è avvenuto un altro incidente, stavolta sulle piste delle Sette Fontane, nella stazione delle Polle, dove un quindicenne di Bologna è caduto sugli sci, accusando un trauma cranico giudicato comunque di limitata gravità. È intervenuto ancora l'elissoccorso, ma per un semplice trasporto all'ospedale di Pavullo, dove il ragazzo è stato trattenuto in osservazione. Tiene banco a livello nazionale la vicenda delle cinque donne incinte morte negli ultimi giorni. Un caso analogo si è verificato anche a Modena, dove un bimbo ha perso la vita durante il parto. Per far luce sull'episodio è stata disposta l'autopsia. Doveva essere il giorno più bello della loro vita e invece si è rivelato il più brutto. Un Natale drammatico, quello appena vissuto da una coppia di genitori modenesi, che la sera del 25 dicembre hanno visto il loro bimbo venire alla luce morto. Per chiarire le cause dell'accaduto è stata disposta l'autopsia. Nei giorni precedenti al parto, la madre, 27 anni, si era presentata due volte in ospedale perché è allarmata da alcune contrazioni. Gli esami, spiegano dal policlinico, avevano evidenziato che sia mamma che nascituro stavano bene, tanto che in entrambe le occasioni la donna era stata rimandata a casa. Il giorno di Natale, in serata, è arrivata la rottura delle acque. Durante il travaglio in ospedale, però, il cuore del bimbo ha improvvisamente cessato di battere e si è dovuta constatare la morte del piccolo. La madre è stata sottoposta a parto cesareo, ora sta bene e nei giorni scorsi è stata dimessa. Per risalire alle cause della tragedia sono stati disposti accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio che sono ancora in corso. Dal policlinico parlano di una gravidanza portata avanti senza complicanze. Nonostante i grandi passi avanti della medicina e della diagnostica, sottolineano dall'ospedale, il parto è ancora un momento delicato che può avere, nonostante tutte le precauzioni, un esito in fausto. Ancora non sappiamo cosa sia successo al piccolo e siamo vicini al dolore della famiglia, scrive in una nota ufficiale il policlinico. L'episodio modenese si aggiunge ai cinque casi di donne incinte che hanno perso la vita negli ultimi giorni in diversi ospedali d'Italia. Per far luce su queste vicende, il ministro Lorenzin ha inviato ispettori nei neosocomi di Brescia, Bassano del Grappa, Verona, Foggia e Torino. Voltiamo pagina. I volontari del Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso hanno dovuto affrontare diverse emergenze per Capodanno e purtroppo hanno visto crescere il triste bilancio delle vittime di maltrattamenti ed investimenti. 15 colombi trovati morti chiusi in un sacco dell'immondizia a San Damaso, una lepre gettata agonizzante in un cestino del parco Ferrari ed un capriolo investito da un'auto che si è poi data la fuga. Questo è il triste bilancio di fine anno del Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso. Negli ultimi giorni i volontari del Centro hanno ricevuto numerose segnalazioni di episodi cruenti con vittime animali e ora vogliono vederci chiaro. Anche quest'anno abbiamo chiuso con un bilancio che avremmo trovato una cinquantina di animali fra cricetti, fra colombi, conigli, tutti abbandonati, abbandonati senza sussistenza, abbandonati dentro ai cassonetti vivi. Particolarmente enigmatica e raccapricciante la vicenda dei piccioni, rinvenuti dai volontari su segnalazione di un passante che, sentendo strani suoni provenire da un cassonetto, ha allertato la polizia. Sull'episodio il Pettirosso ha presentato un esposto in procura. È stato aperto un fascicolo verso i gnotti dalla polizia di Stato. Noi abbiamo fatto denuncia e pertanto, ma loro lo hanno fatto di iniziativa perché è un reato penale che prevede il maltrattamento. Maltrattamenti e investimenti sono purtroppo pane quotidiano per i volontari del centro e, sebbene la legge preveda l'obbligo di fermarsi e chiamare i soccorsi, sono ancora troppi coloro che fuggono rimanendo impuniti. Speriamo nel 2016 che vada meglio, che sia tutto molto più chiaro, le competenze, che la gente sia più collaborativa, che speriamo di avere sempre la possibilità di poter soccorrere gli animali e quando ci viene richiesto. Ci spostiamo a Corlo di Formigine, dove questa mattina un incendio ha quasi distrutto la mansarda di una casa. Un ammasso di coperte e altre cianfrusaglie. È tutto qui quel che rimane della mansarda di questa casa a Corlo di Formigine, in via Edison. Questa mattina, poco dopo le 11, nel sottotetto è divampato un incendio, un rogo che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più gravi. Invece, per fortuna, non si registrano feriti e la casa, ai piani di sotto, è già tornata agibile. Allertati dai proprietari, per quasi due ore i vigili del fuoco di Sassuolo hanno domato le fiamme, fino a spegnerle del tutto intorno alle 13. Ancora da verificare le cause all'origine dell'incendio, la mansarda è utilizzata come ripostiglio. Tra le ipotesi, vi è che il fuoco possa essersi propagato da un cortocircuito dell'impianto elettrico. Danni si segnalano al mobilio e a diversi degli oggetti che nel sottotetto erano custoditi, ma i piani di sotto non risultano interessati. Già questa notte, i proprietari potranno dormire in casa loro. Passiamo al maltempo. La notte scorsa a Modena è arrivata la neve. In mattinata ai fiocchi si è sostituita la pioggia. Allerta della protezione civile dell'Emilia Romagna fino alla mezzanotte di martedì. Più che un'imbiancata, una spruzzata di bianco. Attesa e annunciata da giorni, la neve ha fatto capolino questa notte su Modena. Qualche fiocco, niente di più. In mattinata alla neve si è gradualmente sostituita l'acqua. L'allerta maltempo, diramata ieri dalla protezione civile dell'Emilia Romagna, proseguirà fino alla mezzanotte di martedì. La perturbazione di origine atlantica sta portando e porterà neve in particolare in montagna, con accumuli fino a 10-30 centimetri. In pianura, invece, nemmeno nei prossimi giorni sono previste abbondanti nevicate. La vera bella notizia in città è piuttosto il ritorno da ieri della pioggia, che mancava da quasi 40 giorni, pioggia che contribuisce ad abbassare il livello di inquinamento dell'aria che intorno a Natale aveva raggiunto picchi record. Nel frattempo, la provincia di Modena ha come da protocollo attivato il piano neve, con 173 mezzi a disposizione sugli oltre 1000 chilometri di strade provinciali. Nessun danno o incidenti di rilievo si segnalano per ora a causa del maltempo, anche se Coldiretti lancia l'allarme per l'agricoltura che sta beneficiando della pioggia ma che patisce il repentino abbassamento delle temperature. La perturbazione, come detto, insisterà sull'Emilia Romagna almeno fino a martedì. Poi si potrebbe tornare sul clima mite, poco invernale, che ci ha accompagnato negli ultimi giorni del 2015. Questa dunque la situazione meteo e come abbiamo visto la neve ha interessato soprattutto l'Appennino. Vediamo. L'Appennino è di nuovo imbiancato. Dalle 23 di ieri sera sono iniziati a cadere fiocchi un po' su tutta la dorsale, da Serramazzoni a Fiumalbo, dove era appena terminata la rappresentazione del presepe vivente. Si tratta comunque solo di pochi centimetri, 10-15 alle piane di Mocogno e sul Cimone. Impegnative però le ricadute sulla viabilità, perché prima che le precipitazioni si tramutassero in neve, ieri sera è scesa pioggia gelata, che ha reso pericoloso il fondo, facendo scattare un'ampia operazione di salatura sulle strade, seguita poi già di prima mattina dal passaggio dei mezzi spartineve, anche se per un giro di pala piuttosto leggero. Segnalato solo un incidente sulla Giardini in prossimità di una curva poco prima di Lama Mocogno, ma fortunatamente senza conseguenze. Il freddo ha invece rilanciato l'allarme per le canne fumarie. I vigili del fuoco di Pavullo sono stati impegnati dalle 18 alle 21 di ieri per un incendio che si è verificato in una casa di campagna a San Martino di Polinago, mentre da mezzanotte alle 3 sono stati coinvolti a Sessola in un intervento analogo in un'abitazione dove è stata intaccata anche parte di una trave. Nessun ferito in entrambi i casi, comunque. La perturbazione ha fatto felici invece gli operatori sciistici, perché la caduta di questa neve permetterà di migliorare le piste e di aprirne anche di nuove, e soprattutto, grazie al calo termico, sarà possibile riattivare i cannoni per incrementare il manto. Le previsioni danno altra neve in caduta nella notte, ma si tratterà ancora di pochi centimetri per altro misti ad acqua nelle zone a bassa quota. Cambiamo argomento. Chi si laurea all'Università di Modena e Reggio Emilia guadagna di più. È quanto emerge da un'analisi di Alma Laurea. I medici e gli ingegneri del nostro Ateneo hanno gli stipendi più alti in regione, anche se permangono forti differenze tra uomini e donne. Chi esce dall'Università di Modena e Reggio Emilia guadagna di più. A dirlo è il rapporto del Consorzio Alma Laurea, giunto alla diciassettesima edizione, da cui risulta che i laureati magistrali del nostro Ateneo, a cinque anni dal conseguimento del titolo, hanno gli stipendi più alti in regione, con una media di 1.425 euro mensili netti in busta paga. In particolare, le facoltà di Medicina e Ingegneria risultano quelle che offrono maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e stipendi più alti, 1.885 euro netti al mese per un medico, 1.798 per un ingegnere. Tuttavia, a parità di titolo di laurea, conseguito nel medesimo anno ed Ateneo, le donne guadagnano in media fino a 300 euro in meno rispetto ai colleghi e quasi sempre al di sotto della soglia dei 1.500, a conferma di un divario retributivo che purtroppo non accena ad annullarsi per il permanere di differenze di genere di appartenenza. Discrepanze si registrano poi anche tra facoltà e facoltà. Si va dai 1.706 euro per un laureato in scienze della formazione ai 1.532 per scienze della comunicazione ed economia fino alla soglia minima dei 1.000 euro sfiorata appena, a sorpresa, dai laureati in giurisprudenza. Il rapporto fa registrare timidi segnali di ripresa del mercato del lavoro e, sebbene rimangano evidenti i pesanti effetti della recessione su coloro che si sono laureati a cavallo della crisi economica, soprattutto per quanto riguarda la stabilità lavorativa, secondo Alma Mater il conseguimento della laurea sembra essere ancora una garanzia contro la disoccupazione. Ferrari e Fiat Chrysler Automobiles da oggi sono a tutti gli effetti due aziende distinte. FCA ha ufficializzato lo scorporo della casa di Maranello che domani debutterà a Piazza Affari. 3 gennaio 2016, segnatevi questa data perché oggi è un giorno storico per la Ferrari. Con una nota diramata a metà mattina, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato l'avvenuto scorporo della casa di Maranello. In pratica, da questa domenica, FCA e Ferrari sono due società totalmente separate. Un passaggio annunciato da mesi e che rappresenta una svolta per il cavallino rampante, un passaggio che arriva alla vigilia di un altro appuntamento chiave. Domani, infatti, Ferrari debutterà a Piazza Affari dopo l'esordio a Wall Street di fine ottobre. Tempo di grandi cambiamenti, insomma, per la rossa. Ha nemmeno un anno e mezzo dall'arrivo alla presidenza di Sergio Marchionne. Con la quotazione, il manager punta a spremere al massimo il valore del marchio per ottenere denaro liquido utile ad altre operazioni e, magari, anche a Fiat. Ferrari, infatti, sbarca in borsa e la sua nuova sede legale è ad Amsterdam, ma il controllo resta saldamente nelle mani della famiglia Agnelli e di Piero Ferrari. Il cavallino sarà per il 23,5% in mano a Exor, la holding guidata da John Elkan, e per il 10% al figlio del Drake. Ma le normative di diritto societario olandesi concedono ai soci di lungo periodo poteri di voto maggiorati, con il risultato che, di fatto, in assemblea, gli Agnelli peseranno per il 33% e Piero Ferrari per il 15%. La separazione da Fiat, in altre parole, è tutt'altro che un divorzio. Alla vigilia del debutto a Piazza Affari, la domanda che gli operatori finanziari si fanno è quanto possa valere il marchio del cavallino dopo che a Wall Street la valutazione si è avvicinata ai 10 miliardi di dollari. La risposta arriverà nell'arco della prossima settimana. Da domani avverrà l'assegnazione dell'80% di Ferrari ai soci di FCA e ai detentori di obbligazioni convertibili della società olandese. Il primo giorno di quotazione regolare delle azioni Ferrari sarà venerdì. Piccolo incidente per l'orologio del Palazzo Comunale in Piazza Grande. Lo storico meccanismo risalente al 1868 si è fermato alle 9.30 di ieri a causa di un guasto dovuto alle temperature di questi giorni. La riparazione è stata effettuata oggi dall'orologio Enzo Zaccarelli. E ora l'orologio è di nuovo in funzione. Restiamo in centro ma andiamo in via Selmi nel nuovo complesso San Paolo dove il comune cerca un gestore per il bar-ristorante. Cercasi gestore per il nuovo bar-ristorante all'interno del complesso San Paolo di via Selmi. Il comune di Modena ha pubblicato un secondo bando di gara dopo che il primo era andato deserto. Per presentare un'offerta c'è tempo fino alle 13 di venerdì 29 gennaio. In palio c'è il locale ricavato nell'ambito dei lavori di riqualificazione del complesso più il cortile del banano, simbolo delle serate ai cortili della Modena anni 90. L'assegnazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sulla base del progetto che verrà valutato da un'apposita commissione. A differenza del primo bando, la concessione ha una durata superiore, pari a 20 anni, e il canone annuale a base di gara è stato ridotto di un 15%, attestandosi sui 22.000 euro. Al gestore viene richiesta l'organizzazione di programmi culturali e di intrattenimento. Tra i requisiti richiesti per poter partecipare al bando c'è l'aver gestito negli ultimi 10 anni un bar e l'aver avuto negli ultimi 4 un volume d'affari medioannuo di 400.000 euro. L'avviso di gara è consultabile sul sito del comune di Modena. Le offerte vanno presentate al servizio patrimonio in via Santi o in posta elettronica certificata. Torniamo in Appennino perché ci sono buone notizie per i genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria Foscolo di Pavullo. Sono stati appena affidati i lavori di rifacimento del tetto per risolvere il problema delle infiltrazioni. Il 2015 si è chiuso con un'ottima notizia sul fronte scuola a Pavullo. Il 30 dicembre infatti sono stati ufficialmente affidati i lavori di rifacimento del tetto della primaria Foscolo, segnato da cronici problemi di infiltrazione che in questi anni hanno portato non pochi disagi e proteste. Il progetto era stato approvato già nel marzo scorso ed è stato inserito come prioritario nella graduatoria provinciale, tanto da essere ammesso a contributo nell'ambito del piano sicurezza del governo per un importo complessivo di 90.000 euro. Ottenuto il finanziamento sono state avviate le procedure d'appalto attraverso la centrale unica di committenza che hanno visto la vittoria dell'impresa BMSRL di Sestola, che con un ribasso del 6,7% ha avuto la meglio su altre 10 ditte concorrenti. Nelle prossime settimane, tempo permettendo, si passerà ai lavori che non interferiranno con l'attività didattica riguardando solo la sommità dell'edificio. Sono anni che la scuola accusa problemi di infiltrazione dovuta sia agli anni della copertura che alla sua conformazione, legata a un andamento orizzontale molto più adatto alla pianura che non alla montagna. Nel tetto, infatti, si formano subito stagnazioni, soprattutto con la neve, che facilmente possono dare origine a infiltrazioni pericolose perché col tempo possono danneggiare anche le strutture portanti. Di qui questo intervento strutturale che, dopo tanti rattoppi, dovrebbe rappresentare la soluzione definitiva al problema, riportando la normalità nella gestione degli spazi sottostanti. Per i modenesi che amano le vacanze, il 2016 sarà un anno ricco di soddisfazioni. Analizzando il calendario, infatti, si scopre che gli 11 giorni festivi sono collocati in ottima posizione rispetto ai fine settimana. Che 2016 sarà per i modenesi che pochi giorni fa hanno dato il benvenuto ai nuovi 12 mesi con il brindisi musicale in Piazza Grande o con gli amici nelle feste private? Almeno da calendario sarà un anno sicuramente particolare, perché bisestile. Quindi questo significa che si lavorerà un giorno in più, potrebbe obiettare qualcuno. Ma non solo, perché sarà un 2016 ricco di possibili ponti, tanto apprezzati da chi ama le vacanze, mordi e fuggi, magari per visitare una città d'arte o per salutare il mare. L'aspetto che sorprende di più è la posizione dei giorni festivi rispetto ai fini settimana. In primavera sarà aprile a regalare emozioni di questo tipo, grazie al ponte della Festa della Liberazione. Il 25 aprile cadrà di lunedì e permetterà tre giorni liberi, mentre a giugno, per la Festa della Repubblica, si potrà unire giovedì 2, prendendo ferie il venerdì, al fine settimana successivo, allungando la sosta per quattro giorni consecutivi. In piena estate, nel 2016, sarà per agosto a comporre tre giorni filati di pausa, da sabato 13 a lunedì 15. In autunno, il primo novembre, cadrà di martedì, quindi prendendo ferie solamente il 31 ottobre, si potranno tenere quattro giorni di vacanza, sfruttando le festività dei Santi. In fine dicembre, altri quattro giorni potranno essere garantiti con il ponte dell'Immacolata, essendo l'8 dicembre di giovedì, si potrà facilmente unire con il weekend. Per Natale, invece, meno incroci favorevoli, il 25 cadrà di domenica, mentre San Silvestro sarà di sabato. L'altra particolarità del 2016 riguarda il fatto di essere bisestile. 366 giorni e questo significa che una volta tanto festeggeranno il compleanno nella data giusta anche i nati il 29 febbraio. Parliamo ora di un grande sportivo che oggi compie gli anni, Michael Schumacher. A due anni dal terribile incidente sugli sci, l'ex pilota della Ferrari si trova ancora in stato semivegetativo. Michael Schumacher compie 47 anni e il cuore di tutti gli appassionati di Formula 1 si stringe una volta di più. Il ricordo del mito del pilota che per sette volte fu campione del mondo, quattro delle quali alla guida di una Ferrari, è vivo più che mai, mentre lui, la leggenda, da due anni ormai sopravvive in stato semivegetativo in un letto dopo quel terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia, il 29 dicembre 2013. Il tempo e le sue condizioni sembrano essersi drammaticamente fermati al giugno seguente, quando fu annunciato che Schumi era uscito dal coma. Da allora l'ex campione conduce la sua silenziosa, invisibile e difficile battaglia quotidiana nella sua villa sulle rive del lago Lemano, in Svizzera, protetto dall'affetto della moglie Corinna. Da allora la sua manager, Sabine Kemp, smentisce categoricamente qualsiasi novità che filtri, compresa quella sparata nei giorni scorsi dal settimanale tedesco Bunte, secondo cui Mikael si alza e muove qualche piccolo passo con l'aiuto del fisioterapista. Nella storia della Formula 1 nessuno è stato come lui, 91 gran premi vinti, 155 podi conquistati, 68 pole position, oltre ovviamente ai titoli eridati prima con la Benetton e poi con la Ferrari. Non sappiamo se Schumi potrà tornare a condurre una vita che abbia qualcosa di normale, ma intanto quel che importa oggi è dire solo una cosa, auguri campione. Siamo alla notizia nazionale del giorno, con al centro l'analisi del Ministero dello Sviluppo Economico dei dati Eurostat sulla ripresa in Italia. Sentiamo. Secondo il Mise, i dati di Eurostat dimostrano che l'Italia ha ingranato la ripresa, tuttavia non recupera le perdite causate dalla crisi per mettersi in pari con gli altri paesi dell'Unione Europea, specialmente nei settori industria e lavoro. Il clima di fiducia fa ben sperare, ma preoccupa ancora l'occupazione giovanile, che dal minimo registrato durante la crisi ha recuperato solo 0,9 punti. Nell'analisi si prendono in considerazione i dati del cruscotto congiunturale del Ministero dello Sviluppo Economico, da cui si evince che il livello della produzione industriale italiana è ancora di oltre il 31% inferiore rispetto ai massimi pre-crisi e ha recuperato solo il 3% rispetto ai minimi toccati durante la recessione. Non va meglio per il settore delle costruzioni, se si tiene conto che a ottobre del 2015 l'Italia era 85 punti sotto il massimo pre-crisi, toccando il nuovo minimo assoluto dall'inizio della crisi economica. Gli altri paesi europei, come Francia, Spagna o Germania, avrebbero secondo l'Eurostat recuperato con migliori risultati. Insieme alla fiducia, anche le imprese sembrano positive, ma sul lavoro si avverte ancora molta difficoltà. Nel terzo trimestre il tasso di disoccupazione è sceso infatti all'11,5%, e in questa situazione spicca il problema giovanile, laddove tra i 15 e i 24 anni si registra un tasso del 15,1%. Nonostante tutto, per il Mise emergono segnali positivi di ripresa dell'economia, con particolare riferimento alla fiducia di famiglie e imprese, ai consumi e all'occupazione. Ci fermiamo. Ben ritrovati a TGQI. Non essendoci ulteriori aggiornamenti per questa edizione è tutto. Il nostro telegiornale termina qui e torna domani. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie per averci seguito.